A proposito di DeFi stavo proprio guardando come si sta comportando in corrispondenza di questo ribasso. Comunque buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa situazione di strizza, di panico o come direbbero gli amici di Unicredit di tempesta di cacca. No, scherzi a parte oggi l'obiettivo principale di questa chiacchierata sarà proprio capire cos'è cambiato sul mercato, cosa aspettarsi dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, come agire, se possiamo dire che siamo in bear market oppure no, domanda che ormai ci facciamo costantemente e nessuno sa rispondere, ma utilizzando le nostre solite metriche, insomma i livelli che abbiamo, che teniamo d'occhio, i low, la struttura del mercato e quant'altro, ci arriviamo di dare sempre una risposta aggiornata a tutto ciò, che ci dia un po' una visione razionale e non emotiva, perché se uno sta a vedere soltanto la visione emotiva si strappa i capelli a un periodo dove le altcoin sono in un lago di sangue. Bitcoin diciamo che non è che stia dando proprio il meglio di sé, è lì che ritraccia continuamente senza un barlume di domanda e quindi c'è bisogno un po' di qualcosa sul quale aggrapparsi, sul quale strutturare eventualmente una strategia che non ci faccia cadere in tentazione da fare panic selling o da fare anche dei by the deep sbagliati, perché entrambe le cose possono fare male e possono essere dei gravissimi errori, se le si fa senza cognizione di causa. La cosa che fa sempre la differenza è proprio quella, sapere quello che stiamo facendo e quindi oggi cerchiamo un attimino di inquadrare meglio alla luce della chiusura settimanale che insomma ha chiuso ieri e ci ha dato qualche informazione abbastanza interessante e poi andiamo a vedere, ripeto, i possibili scenari in base a ciò che accadrà nell'immediato futuro. Oltre a ciò condividiamo un paio di notizie, un paio di cose interessanti e vediamo un po' come si è mosso il mondo della DeFi e il resto delle crypto al di là dei grafici stessi in questa fase tendente al ribasso, in questa fase di grande incertezza soprattutto, perché oltre al ribasso l'altra caratteristica fondamentale che si percepisce, si è tangibile proprio, è l'incertezza, cioè nessuno riesce bene a capire quali saranno le prossime mosse del mercato, soprattutto delle altcoin. Le altcoin sono molto in bilico, guardate la dominance, la BTC dominance, che ha fatto un bel rimbalzone e ha già scavalcato entrambe le medie mobili, quindi le medie mobili 9 e 30, che sono i primi indicatori che utilizzo io per andare a esaminare un possibile trend sulle alt. Questo significa che c'è la possibilità di andare a innescare, iniziare di fatto, un ciclo rialzista della dominance, il che corrisponde a un ciclo ribassista delle coppie alt BTC. Molte altcoin, tra l'altro, lo abbiamo evidenziato in un'analisi su Telegram poco fa, hanno delle strutture fortemente a rischio. Guardate Ethereum, Ethereum ha fatto un costrutto di top, questo, tac, vedete, ha perso il suo primo supporto e questo sicuramente non è bene. Ethereum, come sapete, è la più capitalizzata ed è quella che muove un po' di più il mercato altcoin, ma non è la sola, perché di altcoin che hanno veramente tenuto botta ce ne sono poche. Abbiamo Atom, che sembra vivere in un suo mondo. Non conosce il rosso, non conosce niente ed è estremamente bullish, con supporto a 7500. Qua vedete che non l'ha nemmeno toccato, il ritracciamento che ha fatto è quasi inesistente e già oggi la domanda ha incalzato e sembra che voglia andare a ritestare i massimi. Poi invece se andiamo a vedere, non lo so, Binance Coin, per stare tra quelle che osservavamo, vedete, ha avuto un possibile costrutto di top, anche se comunque si sta appoggiando ancora questo supporto che è abbastanza forte, lo 001. Poi cos'è che stavamo osservando? Phantom, che è un'altra molto forte, che ancora tiene botta, ma ha fatto una punta abbastanza marcata. Poi abbiamo Curve, che anche lei sta tenendo botta, non ha perso il suo primo low, ma ha fatto una punta molto marcata. Tra l'altro Curve era anche estesa, quindi ha sofferto abbastanza tutto ciò. Convex, abbiamo la coppia in USDT, che vedete ha già perso il suo primo low, quindi ha iniziato una fase di ritracciamento. Per quanto complessivamente il macro sia ancora positivo, vedete che sul breve, sul daily, abbiamo già un costrutto di top anche qui. Questo significa che comunque sulle altcoin sta un po' cambiando la musica. Non è più il momento di fare e i pin by the dip su qualsiasi cosa che scendano. Se fino a poco fa guardate che grafici era così semplice, bastava veramente fare by the dip, adesso la narrativa sembra cambiare. Quindi bisogna alzare molto la guardia, non agire più appunto impulsivamente. Continuando la nostra panoramica delle altcoin, vediamo ad esempio anche Solana, che è un'altra di quelle che di solito è molto resiliente. Guardate, sta rischiando di perdere questo range low a 0.0033 e se così fosse pure qua avremo un bel costrutto di top, cosa non da poco, perché ripeto Solana ha sempre gravitato intorno ai massimi nonostante le situazioni. E questo vale anche per la categoria gaming metaverse, tanto in voga come AXS. Guardate, tac, ha fatto anche lui un triangolo ribassista rotto, tra l'altro a ribasso. Quindi anche qua siamo con le antenne alzate, non è certo una situazione da by the dip. Mana e The Sandbox, andando a vedere un po' dei nostri bene amati metaversi, vedete che sembra essere in una situazione simile, per quanto sia ancora in zona supporto, in zona range low del caso, ma comunque vedete che è fortemente indebolita come struttura. Sand esattamente lo stesso. Quindi noi adesso questa carrellata la stiamo facendo per... Sand è anche abbastanza forte rispetto alla media in range, ma vabbè, è in range è molto esteso, quindi farei un pelino di attenzione per quello, però non ha rotto la struttura. Sand quindi fa parte di quelle un po' più strong che hanno tenuto botta, un po' come Phantom, per capirci. Questo ci fa capire che la situazione è molto dubbia, molto incerta, ve l'ho detto, su Alcone Alcoin sembra già in fase di ritracciamento barra inversione, come Ethereum, che adesso sta andando a cercare il low e lo deve trovare. Su altre c'è, ripeto, estrema incertezza, forse sorretta ancora dalla FOMO, ma basta un'altra sassata ribassista e non se ne salva più una, perché immaginatevi un'altra leg down sulle Alcoin. Tutte quelle strutture dubbie vengono rotte a ribasso e avere tutte le Alcoin contro Bitcoin con strutture ribassiste, quindi di lower highs, lower lows, ahimè non è mai un buon segno e soprattutto quando si sono appena innescate, perché se poi ciò dovesse durare è tutto un sé, perché chiaramente dobbiamo vedere adesso la definizione delle strutture, quindi nuovi minimi e nuovi massimi, ma se ciò dovesse durare potrebbe succedere che duri appunto a lungo, quindi fare dei buy the dip adesso potrebbe esporre al rischio di begoldare, come si suol dire, quindi di dover essere forzati a tenere in perdita per lungo periodo. Massima attenzione, insomma, dobbiamo seguire giorno dopo giorno quello che accade, strutturare una strategia e adeguarci a quello che il mercato ci sta dicendo. Adesso io partirei con due o tre novità, tanto non ce ne sono molte, in questo periodo succedono poche cose, ci si sposta tendenzialmente al farming sulle stable, quelle due o tre piattaforme che sappiamo rendere in maniera abbastanza costante, senza rischi esagerati, e il resto diciamo che in queste situazioni di incertezza lo si confina un po' ai cipini, di solito è ciò che accade con i livelli di rischio di cui siano consapevoli, perché l'incertezza, non che questi strattoni improvvisi, sono ciò che fanno più male alle operatività speculative, se si va a fare degli APIN in piattaforme fortemente speculative c'è veramente il rischio che nel giro di pochi giorni, ci si trovi un meno 30, meno 40%, proprio per il fatto che finché c'è una situazione dove la gente ha voglia di rischiare perché tanto tutto sale, siamo tutti tranquilli, ok funzionano, ma quando la situazione cambia e la gente non ha più voglia di rischiare e preferisce magari fare dei take profit, vendere, spostarsi su dei porti più sicuri, allora vedete che la musica cambia. Comunque partiamo dalle notizie, poi vi lascio la parola a voi perché vorrei dedicare un bel po' di tempo, il più tempo possibile alle vostre domande per cercare di appunto inquadrare il tutto con razionalità e confortare un po' questa situazione di panico che ogni tanto ci vuole. Allora la prima notizia che è la più bullish di tutte, lo spero perlomeno, almeno per voi, è il lancio del nostro fantastico nuovo sito con tanto di video introduttivo che non potevo risparmiarmi, esimami da fare il pirla pure lì, con tanto di banner per quando volete cercare il prezzo della vostra shitcoin preferita, ma il resto vi giuro che è serio perché se voi lo esplorate, spero che l'abbiate fatto, è online da stamattina alle 10 e veramente eravate impuocati, eravate in 2000 contemporaneamente collegati, non è andato down perché abbiamo preso un server con due palle così proprio per quello, ma che tra l'altro stamattina abbiamo rischiato perché è lost, è o vh e c'erano dei piccoli disservizi e abbiamo detto no, vuoi vedere che proprio la mattina del lancio fanno dei casino, invece no, è andato tutto alla grande e comunque potete trovare un po' tutto quello che uno che è appena arrivato o uno che vuole approfondire può cercare, almeno così io mi immagino, sono contenuti in continua evoluzione, quindi si può trovare partendo proprio da zero, immaginatevi che atterrate qui e dite boh io non so niente di cripto, mi han consigliato di vedere sta roba qua, intanto dite ma questo qua chi è? Ma io non gli darei un 1, vabbè facciamo finta che uno dice ok andiamo a vedere se anche scrive qualcosa di sensato, magari gli diamo una seconda possibilità, ecco qui abbiamo un bel percorso, vedete, su misura per te, ovvero in base a quello che ti interessa puoi andare ad approfondire le basi, l'investire o il trading che sono un po' le tre cose, no? Stiamo costruendo adesso un po' di roba, c'è già un bel po' di roba ci stiamo lavorando da tanto ma l'obiettivo è proprio costruire un database sempre più grande di contenuti orientati su queste tre macro categorie, ovvero i fondamentali per chi vuole capire cos'è bitcoin, cos'è ethereum, cos'è uno smart contract, cos'è la defi, i fondamentali per l'appunto, anche su altre coin li stiamo sviluppando, che cos'è solana, che cos'è terra, che differenza c'è, una roba e l'altra eccetera. Investire, quindi strategie di investimento, come andare a valutare, non lo so, fare analisi fondamentale, le rendite sulla defi eccetera poi c'è il trading speculativo, quindi analisi tecnica, risk management, insomma l'operatività del trading, come farlo in maniera consapevole e così via. Se voi cliccate su una delle tre categorie, tra l'altro per alcune, perché le basi sono le basi per tutti, ma investire e trading come vedete li ho suddivisi in tre livelli di difficoltà, cosicché si possa partire da livelli principianti e poi andare un po' alla volta per gradi ad approfondire quelle che sono le tematiche un pelo più complesse. Poi abbiamo i nostri servizi, chiaramente come il one to one che rimane sempre, vi ricordo se volete approfondire, è una cosa in più, quindi non toglie niente, e ve l'ho dimostrato anche col sito, non toglie niente i contenuti gratuiti che continueranno a essere sempre di più, ma mi rendo conto che anche a me capita a volte, puoi leggerti tutto su un argomento, ma ti rimane quella domandina che anche il video più dettagliato non può andare a risolvere, perché tu vorresti chiedere una cosa che hai in mente tu, e allora lì c'è il one to one per colmare un po' tutte le possibili esigenze, e poi i nostri fantastici social, la nostra community. Particolarmente il focus è stato incentrato sulla DeFi, non so se avete notato, giusto per cambiare, dove è suddivisa per chain, e ogni chain alla fine ha i suoi protocolli. Ovviamente anche questo è in continua evoluzione, ne stiamo aggiungendo, abbiamo un elenco infinito di articoli da scrivere, c'è un team che ci sta lavorando e sono veramente dei grandi, senza di loro tutto ciò non ci sarebbe. Alcuni di loro, tra l'altro il core team lo potete vedere nella pagina about, finalmente rivelato, e poi ci sono tanti chiaramente collaboratori che insomma è giusto ringraziare anche loro, anche se non fanno parte diciamo delle dipendenze dirette della nostra società. Comunque al di là di questo spero che vi sia piaciuto e spero che l'abbiate esplorato bene, perché nasconde qualcosa, ma non vi dico cosa, tanto l'avete già beccato tutti, maledette canaglie, che non siete altre. Vi scillo di nuovo il link e basta, e andiamo avanti. Tac, poi cosa abbiamo? Allora, JonesDAO, ve ne avevo parlato l'ultima volta soltanto accennandolo, quindi che cos'era, dove eravamo rimasti? Era una DAP, si definisce DAO, quindi una DAO di fatto, che ha lo scopo di fare market making sulle piattaforme di opzioni, in primis DOPEX, di opzioni, no, di opzioni in primis DOPEX, che è quella piattaforma di cui vi ho parlato l'ultima volta, che sto tra l'altro utilizzando per Ethereum ed è interessante in questi periodi di lateralità barra ritracciamento, è dove performa meglio perché non c'è il rischio di superare appunto lo strike price a scadenza. Comunque, per chi non vuole andare ad operare direttamente sulle piattaforme di opzioni con i vincoli che ciò comporta, come ad esempio l'esposizione a un determinato andamento del prezzo, il vincolo della liquidità per top tempo, il non avere più quella liquidità perché è depositata sulla piattaforma, ad esempio su DOPEX devi lasciarla per un mese, ok? Ci sono queste epoche durante le quali occorre lasciare la liquidità lì, ma abbiamo la possibilità di usufruire di questa piattaforma, che si chiama appunto JonesDAO, che fa da Volt. Fa un po' quello che fa Yearn sulla DeFi classica, tra virgolette, lo fa sulle opzioni, quindi crea dei Volt con delle strategie, delta neutral, covered call, protected put, l'operatività in leva, bullish, bearish, eccetera, e quello che noi dobbiamo fare è semplicemente depositare la liquidità lì e poi prelevarla se non vogliamo più usufruirne. Inoltre, depositare la liquidità dà diritto ai J token, che sono un derivato liquido. Quindi questo J token è possibile utilizzarlo come collaterale, può essere scambiato e così via. Figata perché io voglio fare la mia covered call su Ethereum, ad esempio, che è un'operatività che in sostanza va a vendere un'opzione call, che è un'opzione rialzista, e va a incassare il premio e se l'opzione scade worthless, scade senza valore, quindi sotto allo strike price, io non ci ho perso nulla. Se scade sopra lo strike price dovrò pagare, insomma, colui che ha acquistato l'opzione, che la eserciterà perché lui ha guadagnato. Questo è lo scopo del mercato delle opzioni. Dopex è interessante perché permette di andare a depositare collaterale, e è su Arbitrum, tra l'altro, quindi anche su Layer 2, tanto meglio, permette di andare a depositare collaterale, in questo caso Ethereum, e fare quindi da Writer di opzioni. Fare da Writer di opzioni vuol dire che il mio collaterale, è depositato, vedete, tac, sulla piattaforma stessa. Posso scegliere su quale strike price, tra l'altro. E vedete come rende? Rende in parte perché ci fa farmare il token DPX, e in parte per i premi, i premium che vengono recuperati da chi ci compra le opzioni. Perché noi creiamo le opzioni, sono opzioni call con questi strike price. Scadenza un mese, perché ogni epoca dura un mese, come vedete. In pratica chi vuole le compra, paga il premio, e alla fine del mese potrà esercitare la sua opzione, quindi guadagnando su di noi, siamo noi la controparte, se Ethereum scade sopra lo strike price, o altrimenti con un pugno di mosche se Ethereum scade sotto lo strike price. Ci sono strike price folli, come 7000 dollari, che ora è meno della metà, eravamo partiti che era sotto i 4000, era 3.700 mi pare, all'inizio dell'epoca. Quindi abbiamo un farm APY del 61%, a prescindere dallo strike price. E in più, se scegliamo uno strike price, sul quale sappiamo ci saranno volumi, e la gente sarà disposta a spendere anche un certo prezzo, a pagare un certo prezzo per l'opzione, vedete che allora anche i premi pagati iniziano a diventare importanti, e l'APR dato dai premi pagati si va a sommare al farm APY, e insieme fanno un qualcosa non da poco. Capite che c'è del grande potenziale su questo mercato? Dopex è ancora, tra l'altro, una piattaforma veramente early su questo, abbiamo solo pochi volt, come vedete, se torniamo indietro, abbiamo i volt su OM, su DPX, su ETH e su RDPX, che è l'altro token di Dopex. Vedete che dall'altra parte c'era buy options, che si può scegliere lo strike price, ma adesso penso che siano sold out la maggior parte, perché quelle con strike price, scusate, ah no, quelle con strike price più elevati non se le affilate nessuno, tipo questa qua, ne hanno comprato l'1%, però già 6.000 sono state comprate tanto e sono state comprate tutte dai 5.000 in giù, 100% comprate, pensate che domanda che c'è stata, no? E quindi è interessante pensare a questo mercato come scalato, e c'è molto hype adesso intorno ad OPEX, ma a me non interessa il token DPX, sebbene in tanti ci stanno facendo la corte, perché di fatto ha un modello simile a Curve, come governance, dove chi detiene i VE di PX poi voterà su quali volt creare, come gestire le opzioni e così via, ma questo esula dal nostro discorso di oggi. Il discorso di oggi voleva puntare sul fatto che l'avere anche l'operatività in opzioni sulla DeFi, che ora non ce l'abbiamo, amplia tantissimo gli orizzonti, perché permette di fare degli edging, no? Nelle fasi di ritracciamento barra ribasso non c'è niente di meglio che edggiare con una bella covered call che magari nel frattempo ti fa anche farmare, cioè è veramente fantastico e pensate cosa può voler dire aprire una posizione in covered call e nel frattempo avere J e TH da mettere a collaterale, borrarci contro e poi farmare pure su quello, cioè è il massimo, è veramente il top. Avere anche questo permette al mercato DeFi di maturare ulteriormente e di essere sensato, ancora più sensato anche durante le fasi ribassiste. Le opzioni poi non sono solo per edggiare durante i ribassi, perché ci sono tutta una serie di operatività infinita che se dovesse diventare insomma un mercato mainstream, non dico mainstream, ma comunque più rilevante, ci potete scommettere che lo approfondiremo. Io ho un piccolo corso di opzioni sul mio canale YouTube composto da quattro video, ma l'emergere di piattaforme come appunto JonesDAO credo che renderà abbastanza inutile il dover conoscere le greche, tutti i tecnicismi delle opzioni, perché quelli servono per l'operatività nuda, per l'operatività classica, ecco, quindi non DeFi. Quindi occhio a questo settore perché, ripeto, è destinato secondo me a crescere e a diventare comunque parte integrante delle nostre strategie, soprattutto nelle fasi di lateralità barra ribasso. C'è tendenzialmente gli APY calano, le rendite calano e la gente si sposta dalla DeFi proprio perché o ti copri coi futures, shortando, oppure con le opzioni, ma le opzioni sono solo su Deribit al momento. Poterlo fare sulla DeFi è un ulteriore incentivo a detenere onchain, niente male, niente male. Quindi molto bello, occhi puntati su JonesDAO, tra l'altro avevo letto da qualche parte che c'era la possibilità di, parlavano di airdrop ma non so come funziona, appena lo scopro, giuro, ve lo dico. Poi cos'altro abbiamo? Qui che cosa? Ah, ok, quest'altra notizia importante la approfondiremo poi in un video dedicato perché ne vale assolutamente la pena, l'ho persa, eccola. Il prossimo fork di Ethereum si chiamerà Bellatrix e insomma si li hanno cambiato, non so se aveva un nome oppure no, magari manco ce l'aveva, ma si chiamerà Bellatrix e sarà il merge, il fatidico merge, l'unione tra le due chain, proof of work e proof of stake, dove finalmente si abbandonerà il proof of work e si passerà al proof of stake. Quindi Ethereum 2.0 arriva al livello successivo. Dovrebbe, dico dovrebbe, avvenire nel più o meno verso la metà, non si sa bene quando, del 2022, dell'anno corrente e, attenzione però, non sarà possibile prelevare subito gli ETH messi in staking sulla beacon chain ma occorrerà attendere sei mesi, ok? Quindi nel momento in cui avverrà Bellatrix questo merge dovremo aspettare altri sei mesi per prelevare gli ETH in staking, poco male. La notizia importante è che dopo il merge, quindi dal giorno T più 1, da subito, non ci sarà più il mining su Ethereum, cioè veramente è una cosa che aspettiamo non so da quanto tempo che avviene. Non vedo l'ora, se mi chiedete when merge non vi so rispondere, non so se qualcuno lo sa fare, ma si stima insomma metà fine 2022, a naso così, un po' come, non lo so, vediamo, da, vedremo, vedremo cosa, cosa, come, dove, quando. Poi abbiamo il fantastico caso Unicredit, ragazzi, questo ormai è diventato virale, acqua ghiacciata, un attimo arrivo. Fantastico sta storia, ha fatto il giro del mondo ed era partita da un utente che, vedete, ha chiesto, no? Ha ricevuto questo messaggio dove gli è stato detto che gli potrebbero essere bloccate le transazioni verso gli exchange e ha chiesto giustamente, ma scusa, fammi vedere dove sta scritto nel contratto, perché io ho firmato un contratto con voi. Quindi, teoricamente, il nostro rapporto commerciale è regolato da un contratto, no? Dovrebbe funzionare così. E guardate qua, in questo, in stile molto, non è un qualcosa di indicato nel contratto, tu sei libera di fare i pagamenti, e il mio era un consiglio, un consiglio tra amici, è così, ecco, questo è il funzionamento, no? Quindi non è scritto da nessuna parte, ma è un consiglio tra amici. E poi qualcuno chiede delle lucidazioni e viene detto espressamente che non si può, vietano, è usato il termine vietano, che non lascia ombra di dubbio, poi sono stati scritti articoli che hanno frainteso questo, dicendo, no, ma non è vero, poveri, poverini, loro non hanno detto così, loro si tutelano. No, c'è scritto vietano, queste sono testuali parole non fraintendibili, vietano relazioni con gli exchange, quindi chi emette valute virtuali o chi è piattaforma di scambio, ovvero exchange. E quindi è saltato fuori un pandemonio, perché, insomma, non siamo neanche più liberi di andare a investire, come vogliamo, i nostri fondi in maniera legale, perché, dico, li stessimo depositando su una piattaforma illegale, losca, che non fa i controlli antiriciclaggio, che non fa, ma gli exchange, quelli ormai, i FTX, Crypto.com, quelli lì, i grossi, hanno implementato tutto secondo le normative, sono complianti anche, addirittura anche in America, dove hanno, c'è l'IRS che gli fa un mazzo così, la SEC che gli fa un mazzo così, e noi dobbiamo ancora dire, no, non si può, perché è rischioso, ma di che cosa stiamo parlando? Ma, cioè, sono cose completamente legali, e a me ste robe mandano in bestia, perché, veramente, poi ci vedono come fossimo dei narcotrafficanti, dei criminali, dei non so che cosa, quando non vogliamo fare niente di male. Siamo qui che vogliamo dichiarare sul quadro REVU, pagare le tasse, non sappiamo come si fa. Vogliamo fare le nostre transazioni in pace, e non possiamo farlo, perché ci rompono le scatole, ci chiudono il conto. Ma, cioè, come dobbiamo fare? Dobbiamo scappare via per forza? Cioè, non lo so, non mi sembra molto furbo, no? E nel frattempo, guardate la differenza, no, che c'è tra la visione e la lungimiranza di diversi stati, c'è il nostro CZ nazionale, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, 96 miliardi di patrimonio stimato fuori dalle cripto, cioè, pensate cosa vuol dire, CZ quanto denaro ha, che se ne va a Dubai, bel bello, dove lo abbracciano, gli dicono, vieni CZ, vieni qui, guarda, fai il tuo headquarter qua, ti aiutiamo noi, regolamentiamo bene, facciamo tutte le regole, perché hanno capito che, insomma, gli porta soltanto del profitto. Adesso, lo so che ho preso uno degli stati un po' più, come dire, che è un po' un paese dei balocchi e me ne rendo conto, non voglio... lo butto lì solo come una provocazione, no, ci sono gli stati lungimiranti che si pongono in questa maniera, dicendo, benvengano le cripto, c'è innovazione, capitale, capitale che magari porta sviluppo, porta, fa girare l'economia, porta utile, porta comunque denaro nelle casse anche dello Stato e delle attività nel mio Stato, no, quindi è benessere, è una cosa da incentivare. Poi invece ci siamo noi che diciamo, no, vai via, guarda, qui non ti vogliamo, questo è brutto, questo è losco, questo è criminale, e rimaniamo sempre indietro, rimaniamo sempre gli ultimi, se continuiamo a far così. A me dispiace, ma, ahimè, cioè, più vedo queste cose, più mi convinco del fatto che, se non cambiamo modo di ragionare, rimarremo davvero sempre gli ultimi, sempre ancorati ai soliti pregiudizi, alle solite cose, cioè, speriamo che qualcuno prima o poi dia un bello scrollone alle persone giuste e gli dica, oh, guarda che se non ti svegli qua non finisce benissimo, e ci surclassano tutti, vabbè. Comunque, niente, questo è un po' il discorso, e nel mentre N26, tra l'altro viscillo ancora il mio sito nel quale ci saranno anche le news, quindi l'obiettivo è, insomma, ogni giorno sì, un giorno no, un giorno due, un giorno una, vediamo come ci gira, ma le notizie, quelle un po' interessanti, cioè non la cavolata di turno, cercare di essere sempre qualità maggiore di quantità, le condividiamo anche qua, c'è la sezione, come vedete, news, dove ci sono appunto le ultime notizie, quelle che possono muovere un po' il mercato, essere veramente interessanti, e N26 che aprirà i vari servizi di decrypto, un po' come ha fatto Revolut, un po' come adesso ha già fatto Hype, Banca Generali, qualcuno che innova, anche in Italia c'è, Banca Generali, tanta roba, questa cosa con Conio, che vogliono aprire, cioè integrare nei loro conti un wallet cripto, cioè questo è veramente quello che bisognerebbe fare, se uno è furbo si muove in questa direzione, questo è il mio punto di vista, e quindi vediamo un po' come andrà a finire, ci saranno le banche più innovative, le banche meno innovative, che penso che col tempo rimarranno indietro, anche se magari adesso hanno posizioni dominanti, ma sappiamo che le cose cambiano, e a volte cambiano anche in fretta, come si suol dire, o evolvi o muori, a me piace molto questa frase, perché rispecchia molto la verità. Basta, ho terminato, adesso io passo la parola a voi, tac, tac, questo vabbè non ci interessa, e vediamo cosa avete di bello da dire. Allora, ho da chiedere, vediamo, andiamo in fondo, che se no qua c'è il bombardamento, Luca ma Wonderland che passa da 65.000 a 85.000% di APY? Ecco a proposito di conti, conto arancio. No, allora l'APY di queste piattaforme funziona, che meno persone stacano e più si alza. Quindi quando c'è un po' di esodo, ovvero si fa un stake, si vende e così via, chi rimane staked ha un APY più alto, perché il rebase è distribuito su un numero minore di partecipanti. Questo è la cosa. Come ti comporterai con Convex? Chiedimelo un'altra volta, già che ci sei. Come mi comporterò? Come da strategia. Come da strategia ho la mia parte dedicata, tra l'altro adesso è in corso il round di Bribes, che frutta veramente bene anche a questo giro, perché abbiamo un 87 centesimi di dollari, no, è il round 8, round 9, 62, ma non è ancora finito, si è praticamente finito, ma 62 centesimi di dollaro per ogni VLCVX, quindi per ogni CVX delegato, che non è affatto male, è un 50 circa per cento di APR, distribuito in vari token, vedete questi sono i token che poi, no, scusate, questi sono i pool, i token che vengono distribuiti, secondo me non si vedono da qui, si vedono da Votium, ma sono un po' i soliti, c'è Frax, c'è Luna, aspettate, guardatelo qua, Origin Dollar, Rangle, CVX stesso, insomma ce ne sono sempre parecchi. è cresciuto anche il numero di VLCVX delegati, quindi sono un po' più diluite le ricompense, però anche il bribe è sempre lì, è sempre bello forte e bello crescente, quindi quella fetta lì è soggetta a ribilanciamento, pertanto se CVX si deprezza rispetto al resto, vado a incrementare leggermente la posizione e basta, tutto lì. Tanto è comunque, cos'era, il 3% diviso tra CVX, CRV e token, con token leggermente meno rispetto al resto. Rimane tale. La strategia è quella e insomma si agisce secondo, io agisco secondo la mia strategia. Poi, 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 consigli per usare Sunny e SBR che vengono fuori dai pool su Sunny? Bah, io li dampo, se li damperei sinceramente, non sono da, non sono di quelle coin che mi viene da holdare, ecco, detto, detto proprio in sincerità, in sincerità. Poi, cosa abbiamo, cosa abbiamo? Ciao Luca, dai uno sguardo a RoboVolt su Rete Phantom. Allora, sto esplorando un po' la Rete Phantom, RoboVolt, è un compounder, questo, sulla Rete Phantom, e ha ancora un TVL discretamente basso, quindi mi muovo un attimino con cautela, io preferisco ancora utilizzare il classico Bifi Finance come autocompounder, proprio per un discorso di TVL più basso, di rischi un po' più alti. Ok, vedete, in beta, che è una cosa ormai detta di qualsiasi protocollo, gli APY sono molto allettanti, perché comunque abbiamo un 40% sulle stable, ottenuto, se vi ricordate, l'abbiamo visto nell'ultimo corso di DeFi sugli autocompounder, che c'è la combo lending più collateralizzazione LP, tutto insieme, lending e farming, composizione di debito, quindi non lo so, bisogna andarci un po' cauti, i rischi non sono da sottovalutare, non voglio dire che è una piattaforma D-gen, però ci sono dei rischi da debito, rischi da smart contract, ha una piattaforma nuova, TVL basso, un po' di cose tutte insieme. Tra l'altro è cappato il TVL, vedete, su molte, proprio perché è una piattaforma nuova, quindi le strategie più golo, anzi tutte, sono sature, strategie sature, quindi c'è poco da fare. Poi, torno da voi, vorrei iniziare un nuovo piano d'accumulo su BTC e TH, secondo te qual è il periodo di tempo ideale, l'intervallo settimanale, bisettimanale, guarda, non mi, non starei a impazzire dietro all'intervallo, avevamo fatto un po' di tempo fa una simulazione, con uno script, che aveva fatto tra l'altro un amico della community, grandissimo, e c'è il video dove simulo, e faccio vedere i vari, aspettate che forse lo ritrovo, vediamo, BTC USD, allora, vediamo, questo è un grafico che dovrebbe essere abbastanza lungo, e incasinato, allora, indicatori, vediamo se ce l'ho ancora, i miei script, il mio simulatore DCA dovrebbe essere questo, dovrebbe essere lui, vediamo, 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 sì, è lui, è lui, è lui, fantastico, guardate che spettacolo, qui ti fa vedere, in sostanza, ti permette di simulare un piano d'accumulo, con, gli input che potete inserire, quindi, la periodicità, giornaliero, mensile o settimanale, il giorno della settimana, in cui andare a fare il pack, o il giorno del mese, a seconda che è settimanale o mensile, la quantità di, di asset da acquistare ad ogni operazione, se c'è un exit strategy, quindi lì con le sue caratteristiche, anno di inizio e anno di fine, poi guardate come viene graficato bene, cioè noi abbiamo, allora, abbiamo, vabbè, abbiamo iniziato al top del 2018, quindi il primo entry è proprio qua, dove c'è la freccina blu, e quello in blu, vedete, è il prezzo medio di carico, la freccina blu e verde è ogni ingresso, è in rosso lo sfondo quando siamo in perdita, è verde quando siamo in profitto, guardate come si adatta bene il prezzo medio di carico, e poi tende ad appiattirsi, questa è la forza del piano d'accumulo, vedete come nel tempo, noi abbiamo un prezzo medio di carico, che è questo, e a un certo punto iniziamo a pregarcene, di come va il mercato, magari ogni tanto implementiamo un po' di exit strategy, con i ribilanciamenti, o quello che è, si fa vedere anche il draw da un massimo, in che punto si trova, e il profitto del momento, il profitto attuale, cioè quanto ho pagato, e a che, quanto ho pagato con tutti gli entry, e a che profitto mi trovo, è interessante vedere come, se io, allora qui abbiamo 100 dollari, ok, mensili, il 15 di ogni mese, supponiamo di, anziché 100 dollari mensili, di farne 20 alla settimana, vabbè ma non importa la quantità, perché poi mi importa vedere la curva, del prezzo medio di carico, facciamoli settimanali, guardate come cambia poco, la curva del prezzo medio di carico, vedete, è soltanto più continua, se prima era così, monthly, vedete, adesso weekly diventa così, e daily diventa così, tac, poi vabbè, c'è un po' di anomalia qua, però cambia soltanto la continuità, non va a differire il prezzo medio di carico in maniera importante, quindi secondo me si può stare abbastanza tranquilli, sul lungo termine, non varia molto il discorso di andare a fare ingressi mensili, bisettimanali o quello che è, la cosa che conta è la costanza, perché qua guardate, la forza di questa strategia è il portarla avanti sempre, 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 guardate qui, per un anno, per tutto l'anno 2018, dov'è, dov'è qua, range data, per tutto, anzi di più, per 469 giorni, è andata avanti in perdita, e uno poteva dire, al diavolo, va a zero, non lo voglio più, usciamo dal pack, e cosa avrebbe fatto? un pack a ribasso uscendo ai minimi, geniale, geniale, e invece no, uno deve dire, il punto di partenza per fare una strategia di questo tipo è essere bullish sul lungo termine, altrimenti risparmiatevela, cioè, se voi pensate che bitcoin sia solo speculativo, che va su, va giù, ma non vale niente, non state a fare un pack, cioè, non esiste, non è, non è sensato, non ha nessun senso, il pack si fa su un asset che secondo noi tra 5 anni e 10 anni farà di più, perché ci crediamo e ci piace avere il nostro capitale, la nostra liquidità allocata lì sopra, può essere l'SP500, può essere l'oro, può essere le altre materie prime, può essere bitcoin, ok, ethereum, altre altcoin, vale la stessa cosa, però, l'importante è la costanza e la durata, non ha senso fare un pack per 6 mesi, cioè, che pack è che dura 6 mesi, e non catturi neanche un ciclo, Cioè, più si accorcia l'operatività, più la lancetta si sposta dal lungo termine allo speculativo, e il pack non è fatto per un'operatività speculativa, ecco, mi piace avervelo fatto vedere dati alla mano, perché questo script è molto utile, e nel video dove ne parlo, lo trovate, tra l'altro, anche scaricabile, applicabile sul vostro trading view, ed è pure gratuito, è uno script gratuito, l'abbiamo condiviso, poi, allora, andiamo avanti, andiamo avanti, preso VFTM, per metterlo a rendita con Yearn, ottimo, e poi collateralizzarlo per MIM, metterli a rendita, ottimo, ottimo, attenzione al debito, l'unica cosa, attenzione al debito, perché se ti dampa FTM, ti si incasina la situazione, attenzione a quello, l'unica cosa è quella, ma tanta roba, un'occhiata al grafico di BitDAO, cosa ne pensi, ah bravo, ma hai ricordato una cosa importantissima, amici miei, io vi comunico una buona notizia, allora, su Bybit, sapete che ci sono i fantastici Launchpad, no, in continuazione, che sono un po' una garanzia, rendono sempre, l'unico problema è che ci vogliono i Bit, per partecipare, perché se non hai almeno 50 Bit, te li scordi, di Launchpad, ce n'è uno in fila all'altro, pam 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 pam, proprio finisce uno, inizia l'altro, finisce uno, inizia l'altro, adesso c'è questo GGM, ultimamente spingono un sacco, con il Play to Earn, con i Metaverse, insomma, seguo molti trend, quindi è, ripeto, è un successo, pressoché assicurato, quantomeno sul breve, ed è il motivo, no, per cui, tendenzialmente, uno nel dubbio, partecipa al limite, dump al giorno 1, ma intanto, la FOMO c'è, quindi, ripeto, è interessante partecipare, occorre detenere un po' di Bit, la regola è la stessa, no, almeno 50 Bit, poi più ne hai, e meglio è, perché hai un'allocazione percentuale, in base ai tuoi Bit, viene fatto lo snapshot, su 5 giorni, poi c'è la subscription, dove si alloca, e alla fine, si distribuisce, in base proporzionale, la bella notizia, è che, faremo un bel airdrop, grazie ai ragazzi di Bybit, che ormai siamo amiconi, amiconi alla grande, no, scherzi a parte, faremo degli airdrop, per i prossimi launchpad, quindi, i dettagli ve li darò, su Telegram, ma, se non ricordo male, ve lo confermo, tra, magari domani stesso, vi do la conferma, su Telegram, ma, come l'ultimo che avevamo fatto, vi ricordate, in sostanza, tutti quelli che partecipano, a questo launchpad, e sono elegibili a partecipare, quindi, di sopra la soglia, verrà fatto un airdrop, di, a dieci persone, di, quanti erano, cento bit a testa, mi pare, erano, sì, secondo me sì, cento bit a testa, per dieci persone, o dieci bit per cento persone, si poteva scegliere, ma, secondo me, era più carino, cento bit per dieci persone, perché a dieci bit, cosa sono, venti, quindici dollari, non mi ricordo neanche più, quanto vale, ditemelo voi, anzi, cosa preferireste, ma, secondo me, io ho pensato, che era più carino, è 1,80, dieci bit sono diciotto dollari, cento bit invece, sono già quasi duecento dollari, tanta roba, no? E quindi ho detto, vabbè, secondo me è meglio così, quindi, i prossimi launchpad, partecipate, se potete, se vi interessa, perché c'è anche questo incentivo in più, alla fine, dieci fortunati ad ogni launchpad, riceveranno appunto, cento bit, a fine mese, perché, insomma, si fa a blocchi mensili, ci saranno, tot launchpad, ogni launchpad, ci sono i cento bit, e alla fine del mese, si distribuiscono tutti i bit, vram, valanga di bit, it's raining bit, quindi, sul pezzo, e, beh, mi tocca scillarvi il ref di Bybit, aspettate, non ce l'ho sotto mano, ma recupero immediatamente, immediata subito, e, comunque, niente, insomma, al di là di tutto, c'è anche questa cosa in più, che è più, come dire, un motivo in più, per partecipare, se si è interessati, tatatata, trovato, se non siete iscritti su Bybit, e vi interessa tutto ciò, tac, vi lascio il mio referral link, che serve per andare a partecipare a queste promo, alle varie cose che organizzeremo anche in futuro, con Bybit, poi, procediamo, procediamo, che tu sappia, non è intervenuto nessuno sulla questione yield resort di Anchor, non ancora, amici miei, non ancora, non ancora, non ancora, a questione di tempo, credo, a questione di tempo, perché poi, adesso, col bear market, ci si sposta di più, lì, il borrow decresce, col bear market, meno gente vuole borroware, non siamo ancora in bear market, è ufficialmente, però, insomma, il voler borroware, è un attimino, come dire, sotto tono, rispetto al depositare stable, con la rendita, no, questo è il discorso, e quindi, devono intervenire, guardate, ve lo farò, sarò il primo, a farvelo sapere, giuro, ve lo assicuro, poi, 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 aspetta che compro altri beat, un in su beat, allora, ciao Luca, hai mai approfondito Telos? No, purtroppo no, ciao Luca, di Avax ne parli sempre poco, eppure in top 10, diciamo, ma è tanta roba Avax, in realtà, da poco è uscito Buffy, una piattaforma di farming, ne hai mai sentito parlare, ti andrebbe di dargli un'occhiata? Dianoci un'occhiata, allora, Buffy, Boo Finance, sembra più da Phantom, come design, ma, ok, cos'è, uno yield compounder, un compounder, 23 milioni di TVL, Coldron, quindi, farmare, ok, Z Buffy, Stake Your Buffy, Z Buffy, ok, quindi qui abbiamo anche la componente di Lock, Z Buffy, una percentuale di tutte le reward, chiaramente, classica ormai che va di moda, Z Buffy, la governance, Battle, cos'è? NFT, così in più, non lo so, guarda, ma dove sono i calderoni? Andiamo a vedere i calderoni, ok, 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 bello, ma quali? Where? Well of Souls, cos'è? L'APR dello staking di Buffy, ma io volevo vedere i calderoni, calderoni, dove siete? SELECT token, CONTRIBUTE, LP tokens, dove è l'APR? Dove si vede? Qua? Aspetta, colleghiamo il wallet, che secondo me lo incasiniamo, è un po' piccolina come piattaforma, ma si è su Avalanche, quanto TVL ci gira, aspettate, vediamo, cosa abbiamo? Aave, 3D Agio, BenQui, Curve, Riclassici, YieldiH, il compounder principale su BenQui, questo è un po' giù, è un po' giù, è un po' giù, o non è nemmeno listato addirittura qui, Bu Finance, no, non l'ho visto, non lo conosco, sai, ma, che cos'è sta roba? che cos'è sta roba? Stable, stable, cosa abbiamo? Vediamo un po', ce la possiamo fare, 25%, non giustifica il rischio di andare in una roba con mezzo milione di liquidità, non lo so, non mi dice niente, mi sembra un po' risk reward non favorevole, sai, poi non so cosa ne pensate voi, ma è un primo sguardo, primissimo sguardo, così, giusto per analizzare anche le cose che vi interessano, poi, 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 vediamo, qual è per te la miglior strategia per mettere a rendita cro? Inoltre, volevo scillarti un sito molto interessante, che dà la possibilità di vedere la classifica per APY degli LP, si chiama CoinDix, Igor, andiamo a vederlo, CoinDix, CoinDix, vediamo un po', cosa abbiamo di bello? Ah, che figata però, bellissimo, c'è tutto, tutto, tutto proprio, allora, vediamo, Single Stakes, Stable Coils, ad esempio, le chain sono automaticamente selezionate tutte, direi di sì, direi di sì, allora, APY, tac, come piace a me, dai, Bancor, Bancor, cos'è? USDT e USDC su Bancor, danno questi APY, non mi torna, Autofarm, cielo, 36%, Autofarm, però, ma sono, sono affidabili? Bifi, sul Tricrypto di, cos'è questo, Beethoven X, vediamo, vediamolo subito, Bifi, vediamo subito se è affidabile oppure no, sembra figa come piattaforma, c'è da vedere la veridicità dei dati, allora, vai su Phantom, abbiamo detto la USDC dai mai, ah, con mai però, al 26 e 47, tempo che si avvia Bifi, facciamo un pisolo, tanto andiamo a vedere le altre, Tarot, è un'altra che ha da vedere, poi, questo che cos'è? 7 days ago, ah, ok, sempre Tarot, Tarot, Bifi, Pancake Swap, BUSD Meme, davvero, 21 e 67, questo ormai lo salutiamo, andiamo a vedere, su Pancake Swap c'è Meme, c'è il pool con Meme, non lo sapevo, allora, Farms, andiamo a vedere giusto questo, per un rapido check, e poi Meme, puff, non esiste, non esiste, BUSD Meme, B, Pancake Swap, ma sono, dov'è, no, ah, c'è, oh, base APY, tutto, davvero, ah, ok, 24%, ragazzi, lo approfondirò, lo approfondirò, è interessante, questo, interessante, questo ce lo salviamo, nei preferiti, ci do un'occhiata, e poi ve lo condivido meglio, prossimamente, quando avrò un po' più dati, poi, allora, qualche altra domandozza, Luca, Cro, dove ha il supporto? Mi sembra di vedere, è molta pubblicità, ma poca sostanza, nell'utilità del token, e confi così alte, non vorrei scomparire, no, guarda, scomparire, non c'è pericolo, sinceramente, ma, ultimamente, è molto esteso, è quello il fatto, sai, che lo rende un po', cioè, pericoloso, un po' meno appetibile, è molto, molto, molto esteso, vedi? Allora, questo è Cro USDT, Poi abbiamo anche Cro BTC, l'avevo aggiunto, eccolo, Cro BTC, è più utile, secondo me, e, vabbè, fa vedere anche questo, come c'è una situazione di triangolo ribassista, quindi è un attimino tesa la situazione, ma come molte altcoin, anzi, tra le varie altcoin, non è neanche quella messa peggio, perché potrebbe essere anche uno storno di questo tipo, il problema è questo, cioè, ha fatto un'alzata parabolica, e quindi è un problema, perché diventa un attimino rischioso, cioè, io le coin impostumi da movimenti così parabolici, tendenzialmente le lascio dove sono, ok? Quindi, non fa eccezione, per quanto io credo che i valori fondamentali ce li ha, il problema è il prezzo, che adesso è esageratamente alto, e sì, e sì, poi, ma l'una BTC è a proposito di altcoin, che, insomma, stanno tenendo botta, ma cominciano a inciampare un po', c'è anche l'una, vedete, abbiamo fatto questo qui, questo costrutto, dampino, retest, bearish, e, vediamo, però anche l'una, che è comunque una delle più forti, rimane tale, perché è il primo supporto, guardate come ha retto benone, però comincia a dare qualche piccolo segno di cedimento, ok? Quindi, in questi periodi storici, massima attenzione, perché ci sono le coin value, come luna, come sol, come BNB, cro, tutte quelle lì, che sì, sono estese, ritracceranno, ma non è che ti crolla la terra sotto i piedi, no, oddio, sono capaci di fare anche meno 50, meno 60, meno 70%, perché sono altcoin e perché sono estese, ma il fatto è, attenzione invece a quelle coin, da launchpad, da hype del momento, quindi quelle mille coin su gaming, metaversi, cloni, di The Central and The Sandbox e simili, quelle lì sì che scompariranno, farà meno 95%, perché quando un ciclo di altcoin inizia a essere arido, le altcoin fuffa, dimostrano la loro fuffaggine, è lì che si vede la fuffaggine, prima sale tutto, poi si vede la fuffaggine, quindi attenzione, massima attenzione, allora, e lo stesso vale per le shitcoin, chiaramente, cioè sono senza nessun valore, e andranno chiaramente a zero anche quelle, poi, dunque, 56 minuti, vediamo due graficozzi, due graficozzi, due graficozzi, di CRV che credi, CRV, io, fa parte della mia strategia, perché, insomma, i fondamentali ci sono, abbiamo parlato un po' della narrativa, del discorso curve wars, eccetera, eccetera, non vi sto più facendo una testa così, adesso sta ritracciando, ma, vabbè, a parte che non ha ancora perso il trend, vediamo, ha rotto un po' un supporto, adesso è in procinto di rompere anche l'altro, quindi non è sicuramente, speculativamente, un momento di entrare, ma fa parte della, lo sapete, no, come ho allocato, quella famosa fettina spec, fa parte di spec, vediamo, vediamo un po', l'obiettivo è proprio, l'obiettivo di spec, è proprio, in caso di bear market, andare ad incrementare un po' la posizione, poi, nel futuro ciclo positivo, andarla a scaricare, e poi chiuderla anche, perché è spec, quindi è un medio termine, no, aveva andato uno o due anni di orizzonte, non lungo come le altre posizioni del wallet, poi, 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 allora, se spammate non vi leggo, eh, fate i bravi, non fatevi sgridare, se spammate in chat non vi leggo apposta, e poi vi banno pure, quindi fate i bravi, allora, bitcoin, abbiamo detto che andavamo a vedere la chiusura settimanale, allora, a parte che oggi potrebbe, fare uno sweep, se, proprio se la sente, è comparsa domanda, eh, qua, guardate, tac, ci abbiamo provato tre volte, ad andare ad affossare anche questi livelli, ma la domanda, per ora, è lì, che tiene, così, vai su, vai su, vai su, e vediamo un po', che combina, il weekly, il weekly, allora, non ha chiuso bene, purtroppo, non è stata una bella chiusura, non è stata una bella chiusura, perché abbiamo chiuso sotto i 43.200, questa, tac, e quindi, adesso dobbiamo vedere l'approccio da sotto, con i 43.200, come andrà, che sarà un approccio respinto, quindi, tac, e tac, allora male, malissimo, andiamo ad atterrare sui 39.000, questi, e poi, in questa zona qua, 30, 34, ed intorni, no, questi sono i prossimi supporti, uno, e due, uno, ormai l'abbiamo già praticamente sfiorato, e poi, questo è ancora non testato, è inesplorato, vediamo, speriamo di lasciarlo tale, in verità, non è che proprio ci terrei a esplorarlo, ma lasciamolo lì dov'è, comunque no, scherzi a parte, se recuperiamo, recuperiamo il, questo livello perso, allora potremmo fare un po' di respiro, un po' di storno, e andare perché no, di nuovo verso i 47.100, e vedete quante nuove resistenze ci si creano sulla testa, ahimè, prima avevamo solo questa, 52, 53, adesso abbiamo 47.100, poi, anzi scusate, abbiamo 43.200, e poi 47.100, più scendiamo, più ci sono nuove resistenze, ma perché la struttura inverte, nuove resistenze vuol dire allontanarci dal top, e quindi dai nostri massimi crescenti e così via, ci vorrà molto molto più tempo, perché prima dobbiamo trovare high e low, nuovi, quindi in base a dove saranno questi high e low, ci saranno nuove distribuzioni di probabilità, tra vari andamenti, per il momento vedete qua c'è un indebolimento forte, quindi se rimaniamo qua sotto, e non recuperiamo questo livello, la massima probabilità è di andare comunque a giocare qua giù, quindi il lower low è ufficializzato, e con buona probabilità il prossimo sarà un lower high, che può essere quindi un punto di ingresso per eventuali coperture short, per chi ancora non l'avesse e la volesse fare, o per chi la volesse incrementare, oppure cover call, le strategie con opzioni, insomma ci sono anche quelle, magari le tratteremo, e quindi questa è la possibilità, ogni resistenza, una volta che facciamo lo storno rialzista, con prove in più della struttura tendente al ribassista, quindi esempio, se adesso rimaniamo qua sotto, andiamo a fare il low qua giù, poi rimbalziamo, non lo so, tac, 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 diventano dei possibili entry per coperture short, da mediare a rialzo, coperture non speculativi, anche speculativi volendo, ma adesso stiamo parlando di un'operatività finalizzata a coprire, quindi questa è un po' la panoramica, se invece scenario bullish, andiamo a riprenderci 1, 2 e 3, queste sono quelle da riprendere, riprendiamo 1, vabbè, respiriamo un po', vediamo dove arriviamo, riprendiamo 2, non male, riprendiamo 3, ecco qua inizia a essere una cosa carina, perché comunque c'è un po' di forza, in particolare, se qua adesso c'è reazione subito, e lo riassorbiamo, idealmente già in questa candela settimanale, cioè non sarebbe male, perché questo potrebbe diventare un falso low where low, c'è questa speranza, ma più rimaniamo qua sotto, più questa possibilità decresce, e la nostra utopia di falso low where low si spegne, mentre se, ripeto, se è un falso low where low e ripartiamo subito, allora abbiamo questa zona da andarci a riprendere, e così, tac, si ridiventa più tendenti al bullish anche, sì in questo caso, se invece rimaniamo qua sotto, e peggio ancora scendiamo, facciamo il nostro low, e poi ripartiamo, come dicevo prima, immagino che il higher low sarà più basso, abbiamo higher low e lower low più marcati, e c'è più possibilità di entrare in un canale di questo tipo, e lì dobbiamo seguire la struttura, lì un punto interessante, poi per rivalutare posizioni long, sarà quando si formerà, purtroppo parlo al futuro, perché su un time frame settimanale, se iniziamo una struttura di lower high, lower low, insomma si parla di mesi, affinché ciò accada, quando si formerà un costrutto di bottom, ok? Però noi seguiamo il mercato, non cerchiamo di anticiparlo, di predirlo, perché ci facciamo del gran male, adesso la struttura è questa, dobbiamo vedere come andiamo a creare il low qua giù, in base a quello, cioè è la reazione della domanda, in base a quello, capiremo se vale la pena di più coprire, coprirci short, e pararsi un po' al di dietro, con diminuendo il rischio, e andando verso un'operatività più da bear market, oppure se siamo ancora con possibilità bullish, in tal caso evitiamo di fasciarci troppo la testa, ecco. Queste sono un po' le due possibilità, con tanto di scenari, di livelli e di operatività, alla fine è così, ma bisogna inquadrare gli scenari, dire quando succede uno, quando succede altro, e come mi comporto, l'importante è avere una strategia ben definita, sul ribilanciamento, investimento, eccetera, non cambia nulla, cambieranno chiaramente i flussi, dovuti al ribilanciamento stesso. Amici, io adesso vi faccio un salutino, l'una ha senso per un investimento di sei mesi, sei mesi e investimento, sono due cose differenti, no? Sei mesi non è un investimento, sei mesi è un, è speculazione, è speculazione veramente estrema, no? È un time frame molto molto breve. E basta, questo è quanto poi, le altre le abbiamo già viste, le altcoin principali, il total market cap, rispecchi abbastanza la situazione di BTC, opla, vedete, è un po', sì, stiamo andando, abbiamo fatto un bearish retest qua sopra, stiamo di nuovo andando a cercare il low e siamo in questo blocco. Mi pare che abbiamo fatto anche, esatto, un retest qua sopra, a riguardo, quindi vediamo dove ci stabilizziamo, però al momento, vabbè, non è neanche, insomma, è più brutto il grafico di Bitcoin, però, il trend è questo, questo è poco ma sicuro. Vediamo, vediamo un po' dove troverai il low, è lì il punto, sta tutto lì. Bene, amici miei, io vi ringrazio, poi andremo a vedere, no, varie, varie altre piattaforme, insomma, faremo le nostre considerazioni anche durante il bear market, adatteremo l'operatività, farmeremo di più, ci sposteremo sulle stable, di cose ce ne saranno da fare, non vi preoccupate. Noi stiamo sempre sul pezzo, ne approfittiamo per studiare, perché poi ricordate che gli eventuali bear market sono opportunità di approfondimento, di andare a cercare, cioè ci sono prezzi più allettanti, e allora lì sì che se si va a trovare valore, si riesce ad accumulare a prezzi sensati. Perché no anche gli NFT, se dovessero essere, come dire, molto sottoprezzati. Cosa ne pensi di Time Wonderland? Solito, Time Wonderland, Redacted, RomDAO, eccetera, durante queste fasi, chiaramente i prezzi diminuiscono, perché sono, come si dice, sono delle piattaforme ad alto rischio, che vengono evitate durante le fasi incerte, le fasi ribassiste, quindi bisogna essere pronti anche a questo, bisogna includerlo nel proprio quadro, diciamo, di rischio e rendimento. Questo è il discorso. Amici, io vi faccio un carissimo saluto, noi ci rivediamo, sempre in live, mercoledì, appuntamenti bonus, domani sono dagli amici di FTX, il gruppo Telegram, FTX Italia, per parlare un po' della IEO, visto che si parla proprio di Psy Options, che è una piattaforma di opzioni, che fa la IEO su FTX, tantissima roba, incrociamo le dita di riuscire a partecipare, che lì è impossibile, e poi basta, prossima settimana faremo una live con gli altri Matti di Hardrock Crypto, Crypto Ita, Emiliano di Afterside, Mauro, insomma tutto, il gruppo di Matti, Marco di Mind the Chart, come dimenticarlo, insomma tutti insieme, molto molto bello. Nel frattempo, studiamo, c'è il sito, ci sono un sacco di cose gratuite, dai, studiamo, e che male non ci fa, quello è un investimento sicuramente vincente. Amici, buona serata, e alla prossima, dumping diretta avete detto, no dai, no assolutamente no, basta, ciao, addio.